Il fenomeno delle spaccate con Tombino ai danni delle vetrine e dei negozi fiorentini che negli ultimi mesi aveva subito una battuta d'arresto è tornato in questi giorni a manifestarsi. Un vero e proprio incubo per i negozianti che temono di trovare al mattino la brutta sorpresa o di essere svegliati all'alba da una telefonata dei carabinieri come è accaduto nello scorso fine settimana al proprietario di una pelletteria del centro. A sostegno degli esercenti è stato varato all'inizio di quest'anno il progetto Negozi Sicuri nato da un accordo tra il Comune e la Camera di Commercio di Firenze con l'obiettivo sia di risarcire le imprese dell'area metropolitana per i danni da furto e atti vandalici ma soprattutto per contribuire ai costi di messa in sicurezza di porte e bandoni, vetrine con l'installazione di impianti di allarme, videosorveglianza e sistemi anti-intrusione. Un contributo concreto che grazie alla Camera di Commercio viene incontro ai tanti esercenti che vogliono prevenire danneggiamenti, rapine e brutte sorprese. L'intervento consiste in un contributo a fondo perduto del 50% con un minimo di spesa di 1000 euro e un massimale di contributo per ogni impresa richiedente di 5000 euro ed è relativo al sostenimento di spese per l'installazione di impianti di videoallarme, videosorveglianza, sistemi anti-intrusione, vetrine, bandoni, porte di accesso ai locali aziendali. La domanda di contributo si presenta alla Camera di Commercio di Firenze, la modulistica è reperibile sul sito della Camera di Commercio di Firenze alla sezione dei contributi e le domande si possono presentare fino al 31 dicembre 2024 salvo esaurimento delle risorse disponibili.